Anche oggi purtroppo i lavori del Consiglio regionale subiscono dei rallentamenti per la disorganizzazione di questa maggioranza. Non ci sono le coperture per le norme che vorrebbero essere approvate, in particolare per la 225 che si è vista bocciata per quanto riguarda il parere finanziario della prima commissione bilancio addirittura dalla stessa maggioranza. Per il resto tutto il Consiglio regionale attende ancora che si trovino coperture certe per gli interventi che sono stati approvati nella finanziaria dello scorso anno. Insomma grandissimi e gravissimi ritardi quando tra qualche giorno ci accingeremo a iniziare i lavori per la nuova legge finanziaria. Insomma un caos totale, una maggioranza completamente allo sbando.